Vai! VHS? Non lo so, è qualcosa tipo dello spazio? Un modello di macchina? Boh, un animale? Malattia sessualmente trasmissibile? È un cavo di connessione che serve proprio per passare la connessione, se non sbaglio. Non è tipo una cassetta, se non sbaglio? Penso, non ne sono sicuro. Cassette vecchie, anni 90. Ah, le VHS, è vero. I paninari. Penso che la risposta non sia così scontata come credo. È chi portava il pane ai nobili. I fornei francesi. Ah, lo avranno fatto forse una rinforza francese contro la regina per noi che non avevano il pane, quindi ci può stare. Quello che conosco io è quello che sta sotto casa a fare il kebab alle quattro di notte. Il Walkman è l'uomo che cammina. È un tutore che si utilizza per la gamba. L'ho anche messo il Walkman. È un tutore che si utilizza per la gamba per tenere il piede ai 90 gradi. È una fascia dell'evoluzione dell'uomo. L'uso va a Michael Jackson per fare la man walker, è un passo di danza. Non è i walkie-talkie. Il Walkman è un dispositivo che ti permette di ascoltare la musica anche camminando, che appunto è tipo una scatoletta dove metti suonso cosa e ti permette di ascoltare la musica. Il Libano. Il quale continente? Libano. Tipo continente africano. Americano. In Svizzera. Oceania. Afghanistan. Il Libano si trova in Asia e sta vicino all'Israele e alla Siria. Chiara chi? Un re. Un cantante neomelodico italiano. Un ballerino. Un filosofo. Uno che ha fatto un programma a televisione di tanti anni fa, tipo come quello di Jerry Scotti. Era un conduttore televisivo che ha fatto anche ad esempio il programma di Umila Rosa e la Fortuna. Presentava tipo Sanremo, non so se lo fa ancora, forse è vecchio ormai. Parastigiano. 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 Grazie a tutti.